Se ancora non l'avete visto, andate sul sito dell'Unicef, rendetevi conto di tutte quelle che sono le realtà che sta aiutando e che ha aiutato e iniziamo a farne parte perché è bello aiutare il vicino di casa, però è bello arrivare anche in luoghi molto più distanti di quelli che sono i solidi.